Si accorta che lui la stava uccidendo ma probabilmente, anzi certamente, non ha avuto il tempo di reagire. Ha avuto però il tempo di chiedergli che cosa stesse facendo poi il buio. Seguito da almeno sei coltellate, ha cercato di difendersi Claudia Bortolozzo, la 51enne uccisa dal marito Gianfranco Duini, 43 anni, ed è morta dissanguata. Un delitto maturato all'interno delle mura della casa di Piazza Mercato a Marghera, dove i coniugi che si erano conosciuti qualche anno fa al centro di igiene mentale abitavano. Il medico legale che ha effettuato l'esame autoptico ha stabilito il numero di coltellate inferte alla vittima, ma non ancora l'esatta dinamica, perché servono altri accertamenti. Soprattutto per capire se Duini abbia colpito la compagna prima la gola al torace, dove aveva altre ferite più superficiali. Il delitto è avvenuto qualche minuto prima delle tre ed è stato lo stesso assassino lunedì durante l'interrogatorio a raccontare al GIP che cosa è accaduto. L'uomo ha spiegato che la moglie lo aveva svegliato per chiedergli di accompagnarle in bagno a bere e che dopo entrambe erano tornate a letto. Secondo la ricostruzione della polizia, il 43enne si sarebbe diretto in cucina, dove ha preso un grosso coltello e sarebbe poi tornato in camera. Quando lui ha acceso la luce, Claudia Bortolozzo si è svegliata. A quel punto Duini l'avrebbe aggredita quando lei si trovava ancora stesa a letto. Lei ha cercato di difendersi, ma non è riuscita a fuggire. Subito dopo, l'uomo ha chiamato la polizia e ha confessato. Inizialmente ha parlato di un raptus e non è stato in grado di chiarire i motivi che lo hanno spinto ad uccidere. Secondo gli investigatori, un possibile movente resta da ricercare nella difficoltà nel gestire la malattia della moglie. Secondo l'uomo ha chiamato la polizia, un possibile movente resta da ricercare nella moglie.